La Camera respinge. Passiamo all'articolo 2, i pareri dei relatori. Sì, sono tutti contrari. Il 2.4, un invito a ritiro, anche perché ritengo che, come è scritta la legge, si possa ottenere lo stesso obiettivo dell'emendamento a normativa vigente. Grazie. Grazie, onorevole Rampi. Onorevole Brescia, lo dico per i colleghi perché i relatori sono stati direttamente informati. Nel frattempo abbiamo verificato che il testo è quello che effettivamente ci è stato trasferito dal Senato. Onorevole Brescia, i pareri. 2.7, contrario. 2.3, favorevole. 2.4, favorevole. 2.9, contrario. 2.5 e 2.6, identici, favorevole. 2.10, contrario. Grazie. Non abbiamo dei aggiuntivi. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Allora, passiamo all'esame dei voti degli emendamenti. 2.7, Borghesi. Parere contrario, Commissione, Governo e relatore di minoranza. È aperta la votazione. Grazie. Mi pare che... Cooperlo. È chiusa la votazione.